Siamo con Gianni Maroccolo per la seconda Contempo Night. È la festa di Contempo, ma è anche la festa di Gianni Maroccolo, perché eri protagonista l'anno scorso con Un l'è andato perso, sei protagonista quest'anno con Alon. No, 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 auguri alla Contempo e lunga vita alla Contempo. Protagonista non lo sono mai stato per 40 anni, figura di se mi passa per l'anticamera del cervello di esserlo a 60. Non sono, anzi, faccio vita tranquilla ormai, faccio pochissime cose dal vivo, ne faccio parecchie per fortuna musicalmente, perché compongo, mi diverto come non mai. Mi ricordo che con Ringo De Palma negli anni Ottanta si cazzeggiava quando eravamo in macchina parlando della base ritmica di ogni gruppo, basso e batteria. Noi cazzeggiavamo continuamente, in qualsiasi caso dicevamo sempre no, no, il nostro posto è dietro, il nostro posto è dietro. Anche macchina, no, no, il nostro posto è dietro. Per cui no, non c'è nessun tipo di protagonismo, c'è solo il piacere di far parte di una festa, quello sì. C'è il piacere che la Contempo da qualche tempo, oltre che occuparsi di mantenere viva la memoria storica, ristampando delle vere preziosità degli anni passati. Ha iniziato anche a produrre musica e artisti e fra questi c'è anche il sottoscritto. Collaboriamo ormai da due o tre anni, diciamo, con molta soddisfazione anche, perché quando arrivi appunto a un certo punto della tua vita l'unica cosa che ti interessa è fare esattamente le cose che vuoi, che siano curate al dettaglio, che abbiano l'amore artigianale più forte possibile e questo con il tozzo e con tutta la Contempo è cosa possibile da farsi. Per cui è un rapporto prezioso dal mio punto di vista, perché mi permette ancora di essere, fra virgolette, vivo nel cosiddetto asfittico mercato musicale, a modo mio e credo anche, forse in maniera un po' presuntuosa, con un briciolo di qualità superiore, insomma, alla media. Parlo di tutte le cose, non della musica, ma proprio del tipo di confezioni, di come si curano i manufatti, di come vengono distribuiti. E sono molto orgoglioso di questo, per cui sono qua per la Contempo, assolutamente, né per promuovere un disco, che poi chi lo doveva sapere che è uscito Alone lo sa, e quindi stasera non ci sarà il concerto di Alone, perché è uscito da poco, mi ci vorranno mesi per mettere in piedi un vero e proprio concerto, però mi andava di esserci, dovevo esserci, mi sentivo in dovere di esserci e ho coinvolto anche Edda, così almeno facciamo un paio di pezzi con lui. Ecco appunto, vogliamo sapere in anteprima che cosa dobbiamo aspettarci questa sera, che tipo di spettacolo hai studiato? Ma è assolutamente all'impronta, il Tozzo mi ha detto, c'è una ventina di minuti, mezz'ora, fai un po' quello che ti pare, per cui ora quando arriva Edda e Beppe Brotto dall'Isola d'Elba, ci mettiamo un po' d'accordo, si improvvisa, qualcosa da Alone ci sarà di sicuro, Edda è qui anche per questo, ma poi si vedrà stasera, insomma. Stasera verrà proiettato in un grande schermo il video dell'altrove che è tratto appunto da Alone, il pezzo che abbiamo fatto insieme io e Edda, per quanto sia stato pubblicato ieri sul web, però in realtà è l'occasione per tutti, anche per noi, di vederlo in uno schermo grande per la prima volta, e poi si suona un po'. Certo. La bellezza di Alone, secondo me, va oltre il concetto di musica, è una sfida vera e propria all'industria musicale che in questo momento vive un momento di crisi, e io vorrei sapere come ti è venuto semplicemente in mente di fare un disco infinitolo, non tra virgolette ma nel vero senso della parola. Non lo so, non è una sfida, anche perché se uno dovesse viverla in quel modo mi verrebbe quasi da pensare che dalla fine degli anni 70 a oggi la mia sia una continua e estremamente sfida nei confronti del mercato. No, in realtà io sono indipendente, cerco di essere il più indipendente da tutto, dai condizionamenti, dalla burocrazia, dalla politica, per quanto sia possibile. Diciamo che scorre nelle vene una buona parte di anarchia pura nel sottoscritto, anche se non so un ben definirla, o se vogliamo dargli una connotazione. E ho cercato per tutta la vita di rendermi indipendente, anche se oggi tanto qualche cosa sei costretto ad accettare, tipo pagare le tasse o fare il bollo alla macchina, ecco. E in linea di massimo ho sempre cercato di perseguire, di seguire i miei sogni, di cercare di renderli concreti e di materializzarli, quindi a seconda dei casi ritrovandomi con gruppi in situazioni diverse, con etichette piccole, autoproduzioni o interfacciandomi con le major, sempre pensando a concretizzare qualcosa di vero, un'idea e un desiderio che avevo. All'on è tanto che era lì, erano anni e mi chiedevo, ma perché bisogna sempre metterci a comporre per fare un disco con una finalità, arrivano nove pezzi, e ti fermi perché il disco è finito, cerchi un titolo, oppure parti da un concept, è arrivato ad avere 40 minuti di musica, e dici ok, il disco è finito. Spesso mi è successo, sia come musicista nei gruppi in cui suonavo, sia come produttore, purtroppo di dover bloccare il flusso creativo perché erano finiti i tempi, erano finiti i soldi, oppure i musicisti avevano altri impegni, eccetera, eccetera. E tutte le volte mi incazzavo perché ero convinto che avessimo avuto la possibilità di farlo fluire ulteriormente, quel flusso, sarebbe stato tutto molto più bello. Il disco stesso in questione sarebbe stato sicuramente più ricco. Per cui ho detto, vabbè, ora non mi fega più un cazzo di niente, ritiriamo fuori sta cosa, cioè non interrompiamo il flusso, e finché regge la salute soprattutto, e finché il flusso rimane continuo così, e ogni sei mesi ci vediamo. Non ho da dedicare un disco a qualcosa, non canto e non scrivo testi, per cui alone significa anche solo, oltre che alone, quasi interamente musica strumentale, molto visionaria, e ha ognuno poi un modo di interpretarla e di viversela, però non è una grande idea. Cioè il fatto di dire un disco che non finisce mai, è iniziato il 17 di dicembre, ma finirà appunto quando finirà il sottoscritto, oppure quando non mi viene più una nota, ma non credo che questo possa accadere, perché per quanto la carcassa perda pezzi giorno dopo giorno in maniera sensibile, voglio dire, dentro c'è un... ci sono ancora degli stimoli, insomma. Grazie. Grazie a voi.